Ci sono delle ore fuori del tempo e quelle lo furono, fuori del tempo e della realtà. Avevo continuato a bere da una parte e dall'altra, fino a stordirmi completamente, e anche nell'ultimo momento di lucidità avevo continuato a ripetermi, perché non ho parlato a Cristina della morte di Wittler. No Wittler! Wittler ascolta Wittler! Wittler ascolta Wittler! E quello, ma io non l'ha tirato E Dio. Ma io non l'ha tirato E Dio. It Dio, Dio! E Dio l'ha tirato, a Dio! Non lo sapevo, Dio! Io non lo sapevo, Ma I Dio l'ha tirato, Dio l'ha tirato... A Dio! A Dio l'ho tirato, a Dio. Io non lo sapevo, vidule, vidule, ascolta. E voi, finitela, finitela, ho detto. Adesso vi scuro le orecchierie, finitela, finitela, ho detto, finitela. Sì, dottore, l'abbiamo saputo, l'operazione è andata male. No, l'abbiamo ucciso, ucciso. Adio, non la si fa, non la si fa. Lei è ancora scomporto, e lo capisco, sì. Era un brav'uomo, e non faceva male a nessuno. Aveva, aveva più vicino, e io l'ho messo nelle mani di quello assassino. Basta con voi, basta adesso. Lei non è in condizioni di ragionare, e sua moglie sarà in pena. Andiamo, non facciamo bene. Non voglio vedere nessuno, specialmente lei, non mi capisce. Vidule, non mi capisce più, Vidule, Vidule. Adesso lo dicevo anch'io di mia moglie. Lo si dice sempre, delle moglie, che capiscono troppo. Vidule, radia. Nena di. Nena di. Non ci vuole che raccompagni. Non ci vuole che raccia, di non mi capisce il lato di pezzo. Perchè non era lì ad aspettarmi? Non sentiva quanto bisogno avessi di lei. Cristina! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.